ecco la banca centrale della giordania questo è il vialone che poi porta nella zona centrale che incomincia un centinaio di metri più a monte ecco questo è tutto un lunghissimo vialone iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Ecco siamo arrivati alla rotatoria, qui c'è il Dream Store. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.